Settimane difficili per gli automobilisti che si troveranno a percorrere le statali ossolane. Anas ha infatti annunciato una serie di limitazioni. Partiamo dalla superstrada, strada statale 33 del Sempione, dove tra Varso e Iselle, ovvero dal chilometro 135 più 400 fino al chilometro 138, verrà chiusa la corsia di destra in direzione nord. Tutta colpa del danneggiamento del giunto di dilatazione in... Nova Vitara Hybrid è qui. Suzuki e tecnologia da incentivi fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki.